Mucchi di plastica, leguami, un tappeto di rifiuti di ogni tipo. Il Citarum, sull'isola di Java in Indonesia, è considerato il fiume più inquinato al mondo e preoccupa il fatto che sia la principale fonte d'acqua dolce di Jakarta. Circa 30 milioni di persone usano queste acque putride per irrigare i campi, lavarsi e molti le bevono. Durante la stagione delle piogge qui si allaga tutto. Con queste acque inquinate, racconta uno degli abitanti che vive vicino al fiume, mi viene il prurito alle mani e il mio raccolto viene danneggiato. Nella stessa zona ci sono anche circa 2000 stabilimenti tessili che danno lavoro a tante persone, ma allo stesso tempo inquinano. Scaricando nel fiume si calcola 280 tonnellate di rifiuti industriali ogni giorno. Mercurio, arsenico, sostanze tossiche, un disastro ambientale e un danno per la salute. Negli ultimi anni si è registrata un'emergenza sanitaria. Mi fa male vedere la mia famiglia, i vicini, gli amici affetti da malattie causate dall'inquinamento e dalle sostanze chimiche. Chiediamo al governo di continuo di occuparsi di questo problema, ma non otteniamo risposte, dice un ambientalista. Dopo gli ultimi tentativi di bonifica falliti, Jakarta però si è data un obiettivo, rendere le acque del Citarium potabili entro il 2025. E' il fiume più inquinato al mondo, afferma il portavoce del ministro per gli affari marittimi. Nei prossimi sette anni però agiremo su tutti i fronti. Lavoreremo insieme con i governi locali, la pulizia, i militari, il ministero dell'ambiente. E siamo ottimisti, possiamo ripulire il Citarum. Grazie.